Woi zuzzi, siete su Berberoffa, ed oggi parliamo di una roba che mi ha fatto molto arrabbiare, perché, come dire, sì, secondo me esiste molta gente stupida, e, eh, questo è un argomento vecchio di una settimana, grossomodo, e riguarda i miei amici Redex e Synergo, quelli sul server. Mo, questi due termolesi, veraci, gioconi, gameroni, fabbriconi, hanno fatto un video sul nuovo gioco AAA, Kingdom Come Deliverance, Kingdom Come, sembra quasi una cosa zozza, è tipo C-U-M, ma vabbè. Insomma, Redex e Synergo, così come fanno spesso, si accaniscono molto sui bug, e hanno, non dico stroncato, ma non hanno dato lo spintone fabbricone, che probabilmente gli sviluppatori o tutta la community videoludica s'aspettava, a questo nuovo titolo rivoluzionario, che però ha delle falle narrative, che ti, 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 ti catapultano fuori, cioè che ti, ti, ti urlano, eh, improvvisamente, Stai giocando a un videogioco! Perché quella è la cosa che fa incavolare tantissimo Redex e Synergo, e io li capisco, il fatto che stai giocando a un videogioco, ci sono delle meccaniche che sono molto immersive, e poi c'è qualcosa che... Stai giocando a un videogioco! Ma vabbè, io non voglio stare qui a sottolineare la bontà della loro recensione o meno. Veramente non mi interessa, nonostante siamo amici, non è proprio quello il punto. Loro lo hanno fatto con molta eleganza, con dei toni molto morbidi, senza flame, senza ferro, né fuoco. Ma io non sono quei due sul server, ho sbaglio! Quindi, come si suol dire, se a un cojone gli dici stupidino, quello si ricrede e poi non hai fatto il tuo dovere. Un cojone lo devi chiamare cojone. Voglio parlarvi di un concetto molto semplice, di tutte le recensioni, veramente tutte le recensioni. Non mi... non sto attaccando personalmente il giornalista che ha comunque criticato in toni molto puliti la recensione di Reddit e Sinergo. Sto parlando della comunità videoludica che alle volte sa essere veramente stupida. Il recensore e la recensione si mette al centro tra il consumatore finale e il produttore, che fornisce il programma, che può essere solamente una mera collezione di stringhe, di codice, di caratteristiche tecniche, di requisiti, eccetera, eccetera. Il recensore deve fornire assolutamente una visione personale di un prodotto, una visione che deriva da un impiego e da un filtro fatto di carne, ossa, sangue, lacrime e anche cacca, perché siamo fatti di cacca. Tranne le donne che non fanno mai la cacca, questo lo sanno tutti. La cosa che mi fa veramente uscire fuori dai gamberi è il fatto che ci siano dei deficienti, sono veramente dei deficienti, che accusano i recensori di fare della disinformazione semplicemente perché danno un giudizio personale. E dicono è un giudizio personale. Esempio mio, così evitiamo di difendere magari Redez e Sinergo e difendiamo un po' i recensori come categoria. Ho fatto un video, una manciata di tempo fa, che potete reperire, in cui vi parlo di quanto mi sono trovato male con l'iPhone 7 e ho detto delle cose molto personali, francamente, delle cose molto personali. Neanche ho menzionato delle caratteristiche tecniche. Era una sorta di racconto della mia esperienza di utente e di una collezione di disavventure personali da esperienza utente. Non mi puoi tacciare di disinformazione, imbecille. Perché la disinformazione è dire che magari l'iPhone 7 è un formaggio francese, quella potrebbe essere disinformazione. La disinformazione è dire che Kingdom Come Deliverance è un programma di video editing. Quella è disinformazione. Ma dire che io con l'iPhone 7 mi sono trovato molto male, ho avuto dei problemi e mi sembrava macchinoso e che preferisco l'Android, è una semplice recensione. Poi te lo spiego nel dettaglio perché e ti dico cosa mi è successo. Se Redez e Sinergo parlano male di Kingdom Come Deliverance, perché dicono che ci hanno avuto dei problemi e la loro esperienza, no? E va così. Va veramente così. Non puoi parlare di disinformazione. Non puoi parlare di disinformazione nel mondo anche, secondo me, dei videogiochi, nel mondo della recensione dei film, eccetera. Sapete perché? Il motivo è che tu scegli i tuoi recensori. Quello è. La recensione di per sé è un prodotto. Quindi nel momento in cui tu sai che il recensore tizio è molto molto sensibile ai bug ed è molto 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 poco sensibile al comparto artistico, sai che ti prediligerà un titolo che è senza bug ma ha una grafica brutta. E quindi ti dirà questo titolo è bellissimo, c'è una grafica di merda. Al contrario, se sai che il recensore B, tipo io, io mi trovo in una di queste categorie, è molto molto tranquillo sui bug, tipo il gioco ha un bug, va beh, chi se ne frega, ma è molto più attento al comparto artistico, magari la colonna sonora deve essere bella, la grafica deve essere bella, che non significa pompata, significa semplicemente gradevole, allora hai una recensione di altro tipo. Io me la sono presa con Reddits e Sinergo perché hanno parlato male di Skyrim. Io per anni ho evitato Skyrim come la peste perché me l'aspettavo come un'esperienza videoludica che non era semplicemente nelle mie corde. Poi ci ho giocato, mi son detto, cavolo Skyrim è divertentissimo, c'ho tantissime ore su Skyrim, anche su Fallout 4 che è buggato, è molto buggato, però ci sono, ci ho passato cento ore su Fallout 4. Ma questo mi fa dire, Reddits e Sinergo trovate un altro lavoro perché come recensori non valete un cazzo. No, semplicemente nel momento in cui ascolto una delle loro recensioni, tengo presente del fatto che loro sono più sensibili a certi parametri e meno sensibili a certi altri parametri. Ok, io quello che dovevo dire l'ho detto e se mi scusate un secondo, mi preparo con il mio impermeabile a ricevere questa bella pioggettona di merda che mi arriverà da tutti quelli che Barbaroffa, ma io non sono scemo, come ti permetti? Tu non capivi un cazzo quando parlavi di videogiochi e continui a non capire un cazzo e la shitstorm sta arrivando e ci prepariamo anche con questo. Ah, mi sono pinzato la barba nella zip!